11 comuni coinvolti, 100 chilometri di costa interessati e un progetto votato alla tutela dei beni naturali, del paesaggio e della biodiversità. L'area marina protetta Otranto-Leuca potrebbe diventare presto realtà. In Puglia, oltre alle tre esistenti, Isole Tremiti, Toreguaceto e Porto Cesario, da anni si lavora l'istituzione di un'area marina protetta lungo l'area del Parco Naturale Regionale Costa-Otranto-Santa Maria di Leuca e Posco di Tricase. Un importante contributo è stato dato dalla Regione Puglia a partire dal 2021 grazie al progetto Corisma per ipotizzare i migliori scenari di conservazione e gestione delle aree biologiche marine necessari per impattare positivamente sulla sostenibilità della pesca e delle altre attività connesse all'uso del mare. L'area marina protetta è un obiettivo importantissimo e strategico. Lo è dal punto di vista naturalistico, di difesa del territorio, ma lo è anche dal punto di vista turistico perché è comunque un attrattore conclamato. Il Comune di Tricase ha fatto di più. Noi abbiamo già fatto studi propedeutici all'area marina protetta in maniera importante perché abbiamo definito un'area e approvato l'Oasi blu in Consiglio Comunale. Quindi siamo stati il Comune che ha fatto più passi in avanti studiando il fondale nel dettaglio ma soprattutto concordando con tutti gli stakeholder del territorio anche la tipologia di pesca che si può fare coinvolgendo gli attori del territorio quindi sia i pescatori ma anche i bagnanti ma anche i turisti ma anche i cittadini. Abbiamo fatto un passo importante, già passato l'anno scorso in Consiglio Comunale. Oggi noi siamo pronti ad approvare l'area marina protetta.